Camminare per fede o per mente carnale? Un re di una sperduta regione dell'Africa aveva tra i suoi sudditi un servo molto fedele nei suoi confronti e molto devoto a Dio. In tutte le circostanze della vita, belle o brutte, solleva ripetere al re. Maestà, tutto quello che fa il Signore è perfetto. Dio non sbaglia mai. Il re lo ascoltava con un certo scetticismo. Non era molto convinto delle parole del suo servo, ma lo lasciava dire, visto che si trattava di una persona brava. Un giorno il re andò a caccia con alcuni suoi servi e fu aggredito da un animale selvaggio. La belva fu uccisa, ma il re perse la mano in questa occasione. Naturalmente il re fu molto contrariato da questo incidente e nella prima occasione rinfacciò al suo servo. Così Dio è buono? Così Dio non sbaglia mai? Mi vuoi spiegare che cosa c'è di buono in tutto quello che mi è successo? Il servo rispose molto rispettosamente. Maestà, io non so perché tutto questo è accaduto e ne sono molto dispiaciuto. Però, se è successo, so certamente che ci sarà una ragione, perché sono sempre convinto che Dio non sbaglia mai. Il re fu indignato per la risposta e comandò che il suo servo venisse messo in carcere. Dopo qualche tempo, il re lasciò la sua dimora reale per visitare alcuni villaggi del territorio da lui governato. In uno di questi spostamenti cadde in un agguato e fu rapito da alcuni uomini armati di una tribù di selvaggi. Costoro volevano sacrificarlo ai loro dei e fu allestito il posto in cui si doveva fare questo sacrificio propiziatorio. Ma poco prima di uccidere il re, si accorsero che gli mancava una mano. E allora desistettero, perché i loro dei non avrebbero gradito una vittima con dei difetti fisici. Così il re fu rilasciato e poté tornare al suo palazzo. Riconoscendo che la sua menomazione gli aveva salvato la vita, fece subito rilasciare il servo che aveva messo in prigione e lo ricevette con molta benevolenza. E gli disse Il servo riflettò un momento, poi disse Maestà, se io non fossi finito in carcere, probabilmente sarei venuto con voi in quel viaggio e sarei stato catturato. Probabilmente sarei stato sacrificato io ai loro dei, visto che io ho entrambi le mani. Dio è stato buono anche con me, permettendo che io finissi in prigione. Ricordato, Maestà, Dio non sbaglia mai. Amen. Dio non sbaglia mai. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Così tante volte quando ci succedono cose che non comprendiamo, perché Dio l'ha permesso, perché, perché, perché. Anche davanti a una morte, Dio sa, perché Dio non è preoccupato per una morte, perché Lui c'è una vita migliore. Cosa che noi non possiamo capire adesso. Insomma, in ogni situazione vale la pena di confidare nel Signore. Grazie Gesù. Quante volte non comprendiamo il piano di Dio, ma poi alla fine lo ringraziamo, perché non ha risposto a una nostra preghiera poco saggia. Quanto è meglio che se non risponde a tutte le preghiere, perché non sappiamo pregare. Chiediamo cose sbagliate. Sì. Cose che noi sembrano positive, però Dio ha un piano superiore. Dio è in cielo, noi siamo in terra, come possiamo capire tutti i Suoi piani? Io credo che il diavolo aveva creduto che fosse stata una grande vittoria vedere Gesù in croce, finalmente. Però non discerneva che nello spirito quello era invece il piano di Dio per vincere il diavolo, liberare i Suoi figli dalle prigioni del maligno e sconfiggere il maligno una volta per tutte. Cioè era già sconfitto, però doveva anche ottenere la vittoria di liberare noi che eravamo sotto, sotto e dentro la prigione delle sue bugie. Allora il diavolo credeva anche che fosse stata una grande vittoria a massacrare i martiri nei secoli, come anche avviene ancora tutto ad oggi. Ma lui è così carnale e non dispone come noi del discernimento dello Spirito Santo. Lui non capisce che i martiri non solo sono disposti a morire, ma vogliono morire. Perché se quella è la volontà di Dio, allora abbracciamolo con tutto il cuore. I martiri danno le loro vite per la gloria di Dio. Andiamo a Ebrei 11.35, lì è scritto qualcosa su questo. Ebrei 11.35 Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Ebrei 11.35 Gloria a Dio. Questi potrebbero essere liberati, non hanno voluto essere liberati. Quindi camminare per fede include anche essere pronti a dare la vita per il Signore. Quando e se necessario. Speriamo noi di essere tra questi. Non possiamo camminare per visione, non possiamo camminare nella carne, ma dobbiamo camminare per fede. Fede che qualsiasi cosa Dio farà, anche se non la comprendiamo, sapremo però che in un modo o nell'altro sarà la cosa giusta. Perché? Perché Dio conosce il futuro. Sa cosa è meglio per noi, per il suo regno. Una volta che abbiamo capito che Dio ci ama, che la sua volontà sia vivere o morire, cosa cambia? Lui non sbaglia mai. Gesù l'ha dimostrato. Lui è morto in croce per noi. Cos'altro vogliamo? Vogliamo capire sempre perché ci guida in un modo e non in un altro, mentre la nostra mente è carnale e crediamo che questo è meglio. Certo, tutti dicono che è meglio e Dio guida in un'altra maniera. Contrariamente alla nostra mente è carnale. È quello che sembra logico. La nostra mente. Però se ci pensi, paragonato al cammino per fede, è assurdo. Perché è come se tu chiedessi a un cavallo di capire cosa farà il suo cavaliere. Il cavallo porta il suo cavaliere anche alla battaglia, senza pensare, senza paura. E allora non si chiede a un greggio di pecore di giudicare dov'è che il loro pastore le sta guidando. Non lo capirebbero. E a volte non capiamo dove il grande pastore ci guida. Le vere pecore seguono per fede e basta. E allora anche noi, se seguiremo senza mormorare, saremo tra le sue vere pecore. Altrimenti, e altrimenti saremo caprete. E Gesù ce l'ha detto. Andiamo a Giovanni 10. C'è una bella scrittura lì. Sì. Allora 10, 27 e 28. Grazie. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna. E non periranno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, 27 e 28. Perché? Perché lo seguono. Puoi benedire, se tu sei una guida di qualunque tipo, puoi benedire chi non ti segue. E no. E no. No. Credibile a questi. Do loro la vita eterna, la pecore che mi seguono. È scioccante quello che Gesù dice. Lo finiamo domani? Sì, va bene, sì. Possiamo. Gloria a Dio. Amen. Un bacione, fratelli. Ci sentiamo domani mattina. Puntare alla sveglia. Grazie, Signore. Dio vi benedica, fratelli. Vi abbraccio forte. Alleluia.